È un'eccellenza nel campo della tecnologia e della ricerca. Lo ripete più volte il direttore Alessandro Pane a proposito dello stabilimento di Pagani. La città di Sant'Alfonso ospita l'unica Sede Ericsson del Mezzogiorno e la terza in Italia. A Pagani si disegna il futuro delle nuove tecnologie. La multinazionale svedese quasi 30 anni fa scelse di investire proprio nella città di Pagani nel campo della ricerca e dell'innovazione ed in via filettine una vera e propria oasi si raggiungono ogni giorno traguardi inimmaginabili. Noi siamo adesso una realtà di oltre 260 ingegneri che lavorano qui appunto a Pagani in questo centro della Ericsson che è un centro che ha una ricaduta mondiale perché nella varie trasformazioni della rete dal 2G al 3G al 4G e adesso il 5G noi abbiamo ottenuto una tipologia di competenza che è quella legata appunto alla sicurezza delle reti e alla sicurezza dei dati e oggigiorno se ne parla tantissimo si continua a parlare di questo importante elemento che dà certezza a chi poi viaggia sulla rete che sia voce che sia dati che riesce in qualche modo a dare appunto la certezza e la sicurezza che le informazioni siano protette e siano tenute nel normale riservo che normale ci sia in questi casi. Quindi siamo un centro importante all'interno del contesto generale della Ericsson che al momento è di qualcosa come 25.000 persone che lavorano nella ricerca e sviluppo in tutto il mondo, su tutti i paesi e Pagani sicuramente è uno di questi. Pagani oggi è nella mappa geografica di centri d'eccellenza della Ericsson ed è riuscita sempre appunto con questa fertilità che abbiamo trovato nel territorio nonostante devo dire che negli anni la campagna ha perso un po' di alcune tipologie di attività che erano legate al mondo delle telecomunicazioni quindi noi ci siamo trovati un po' a dover far fronte a questa necessità di appunto migliorare sempre ogni giorno ma di dover anche trovare i giovani e le persone che potevano lavorarci quindi manteniamo e continua ad essere un punto fondamentale proprio per la grande relazione che abbiamo per esempio con le accademie del territorio e con la risposta che ci danno il nostro personale che unitamente ai giovani che appunto vengono a lavorare da noi continuano a dimostrare una grande performance, una grande attitudine a questo cambiamento. Ripeto, negli ultimi 15 anni abbiamo visto la trasformazione delle convenzioni epocale oggi ne vedremo un'altra e questo sito continua ad essere pronto per poter affrontare queste sfide quindi la scelta strategica che abbiamo fatto nel passato ad oggi continua ad essere valida.